Loro vengono a rottare, non è quello, la motivazione bisogna perdere. Quella è una patina e era lì a cambiarla. No, adesso non puoi fare mia casa. Tanti stanno chiamando e chiedendo chi conta con il Covid. No, però cambierò me e poi pronto. Pensa che io ho tanti anni fa, avevo un fidanzato africano. E vivevamo insieme. Ho chiamato a pranzo mia mamma e mio papà perché lui voleva conoscerli. Ho detto ok, li chiamo a pranzo. Solo che mio papà è una persona di quelle italiane molto... Buono. Sai quelle cose tipiche, sempre quello. Quello è fatto in quel modo, si cambia un po' non lo mangia più. Allora praticamente li chiamo su. Molto poco e... È diabete? È diabete?